Per il quinto appuntamento della sezione musica e percorsi d'arte itinerari vesuviani del 26esimo festival delle ville vesuviane, domenica 1 giugno a Villa Campolieto ad Ercolano si è svolto il concerto Un Viaggio Attraverso le Principali Forme Pianistiche di Bach e Mendelssohn, con la giovane solista Eloisa Cascio. Nel Salone delle Feste della Residenza Vambitelliana la pianista ha eseguito alcune celebri composizioni dal barocco al romanticismo. Il concerto è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Anna Iervolino e l'orchestra da camera di Caserta. La fondazione Enteville Vesuviane comunica inoltre che sono aperte già le prevendite per i concerti del cartellone estivo, il 10 luglio il concerto di Massimo Ranieri, seguito poi il 17 da quello di Arisa, il 24 da quello di Renzo Arbore e l'orchestra italiana, il 31 da quello di Elio e le Storie Tese e il 3 agosto gran finale con Napoli Jets Project.